Ben tornati a Sarezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Lo sai che facciamo? Buonasera. Apriamo una vendita dell'usato qui direttamente? Un mercatino facciamo. Con tutta la bagace qui tranquillamente possiamo farlo. Devo dire che tra l'altro è anche aumentata rispetto all'ultima volta. Buonasera, è aumentata sì. Abbiamo questo bellissimo divano in offerta, vieni. Questo te lo possiamo dare se vuoi un centinaio d'euro. Io ho una certa età, il divano lo devo prendere con quello che si alza davanti per le gambe per stare in destra e mi devo rilassare. Sei un appassionato piromane che ti piace dare fuoco ogni tanto. C'è anche un estintore. Vedi questi sono veramente previdenti perché sono tutta infiammabile e potrebbe succedere qui come è successo dove era nel Lazio? Quello dell'incendio. Ah sì sì, che poi non è successo niente, è tutto l'aria buonissima, hanno detto subito che non c'è alcun rischio, tutto bene. C'è alcun rischio di prendere niente, forse prende qualche tumore sì. Sono fatti quando c'è questi incidenti sono fantastici. Cioè emerge le cose più schifose, no? Però va tutto bene. Tengono tutti buoni perché non si può creare panico, però nel frattempo respirate quest'aria che vi fa bene sicuramente. I polmoni mi si ripuliscono tutti. E insomma, rifacendo, siamo qui, questo è credo che è l'inizio del sentiero della bonifica. Sì. Infatti hanno bonificato tempo fa il... Giustamente il canale della Chiana. L'hanno portati su. In attesa che qualcuno venisse a prenderli. Tutti dicevano ora vedrete, vedrete che li tolgono, vengono a prenderli e invece non sono venuti a prenderli, ma ci hanno aggiunto altri. Che poi anche sono gomme, quindi. Noi eravamo già stati qui tre settimane fa, questo non c'era. No, hanno aumentato. Da dove vedi? La gente che passa di qui vedendo questa discarica. È invogliato. È invogliato a aumentare il volume. Si fa proprio così. Esatto. E' boom. Ad esempio lì c'è un bidone con qualcosa dentro. Non so. Chi liquido sarà? Eh non lo so. Se è gasolio prendilo così e non ti macchino. Beh non credo che... C'è un fumo. Ha fatto un soffio. No, era aria logicamente con il caldo, no? Vieni, vieni a vedere che è Luca. Vieni a vedere che cos'è. È un liquido grigio. Garto, che cos'è? È olio. È olio. È olio. È un toccasana direi. Ricciudilo. Ricciudilo. È un toccasana. Scusa, questo non ti può sedere per la macchina, eh? Ma che ne sai che roba è? È olio. Oh, ma qui il bidet, mi avevi avvertito che si può fare anche il bidet qui, eh? Ah sì, qui ti puoi lavare i piedi. I piedi. Ma che bel bidet che ti anche abbiamo. C'è il water, c'è tutto. Quindi c'è un servizio completo. Completo, completo. La doccia va nella ciana direttamente, l'acqua è pulitissima, quindi scendi giù. Poi tranquillamente andarci. Tanto non c'è più tempo. Magari l'acqua è un po' freddina adesso per andare nella ciana a fare il bagno. Poi l'acqua è un po' verde, salmastra, ferma. No, non te lo consiglio. Meglio di no. Insomma, non solo che c'è questi rifiuti che sono stati riportati su dal canale, ma chi lo frequenta per le passeggiate dice che comunque non è che prima era diverso. Ogni tanto si creano queste ammucchiate, a prescindere che adesso alcuni li hanno ritirati su. E se deve venire la 6, se deve venire la 6 e poi questo che cade sulle bollette. Sì, purtroppo sì, perché se sono servizi straordinari il comune da Rezzo, poi devi pagare il servizio. Comunque queste sono ditte che fanno le fulbe, no? Cioè ditte che magari devono smobilitare e che per non pagare magari... Ci sta, ci sta. Molte volte butta già anche tutti gli inerti, però qui proprio tutto materiale che risulta. Comunque ci sta, però questo materiale non è molto da ditta, sembra molto da privato, che si debba sbarazzare di qualche pezzo e lo lascia qui. Non è lo stesso, qui sono più... Sì, però c'è la ditta difficile che abbia questi tipi di materiali da smaltire, perché vedi, c'è un materasso che è veramente di uno, c'è quello che è sicuramente di un altro. Questo è un privato, dai, non c'è il sensore della ditta qui. Comunque, è sconcertante che è un mese oltre che sono stati, ma anche più, che sono stati riportati su e nessuno l'ha presi, ne sono aggiunti altri. Forse è il caso che questi ispettori ecologici, chi è che l'aveva proposti, che venissero messi anche in campo, no? Sì, AISA l'aveva proposti a suo tempo. AISA non c'è più, adesso c'è 6. Adesso abbracciamo tutta la Toscana del Sud. AISA impianti. AISA impianti fanno un'altra cosa. C'è la 6. C'è la 6 che potrebbe provvedere a questo e c'è il Comune d'Arezzo che potrebbe provvedere a segnalare questa cosa. Vuol dire che nessuno la segnala. Io penso però a quelli che l'hanno raccolto a tempo fa, lungo la Chiara, l'hanno segnalato questa cosa. Non l'ho capito perché. Facciamo così, facciamo così. Adesso noi la segnaliamo, ma non da televisione. Adesso noi da privati segnaliamo al sito, ci sarà un modo per segnalare a sé questa cosa, vediamo se vengono a prenderli. Se la chiamiamo da televisione magari vengono, ma voglio chiamarli da privato. Non è che passando da qui la direttissima e passano tutti questi freccia rossa. E potrebbe essere anche l'immagine della città questa. Eh sì. Dove siamo? A Rezzo. Si vede. Si vede. Vabbè. Tra l'altro mi parli direttissimo. Una volta dobbiamo parlare anche di questa benedetta stazione che dovrebbe sorgere, che non si sa dove. Ma dove? Non se ne parla più, nessuno ne parla più. E chi la paga? Chi la paga? Chi la paga? Ferro del Stato non te la pagano. A Leggeminia quanto ti è costato quella media padana? Anche se mi sembra che abbia preso un po', leggevo i numeri. Quanto è costato quella media padana? Un bello Italo. Quanto è costato quella media padana? Non so quanto è costato. Miliardi. E tu pensi che Arezzo, Siena e forse Perugia insieme riescono a mettere insieme? Io so che a Perugia, leggendo un po' i quotidiani, nel Consiglio Comunale di Perugia, ma anche in Regione, si sta lavorando su altre ipotesi, perché forse la considerano irrealistica o comunque non funzionale anche venisse realizzata loro, perché loro dovrebbero comunque prendere un altro treno, una macchina, eccetera. Cioè l'idea di trasformare l'Intercity Tacito, che credo sia il Terni Milano, che parte la mattina e torna la sera, trasformarlo in freccia, quindi saltare delle fermate e quindi cercare di accorciare il tempo di distanza. Quindi utilizzando l'unico binario che sai che c'è tra l'Umbria e noi. Quindi fare il servizio, ma da Tundarezzo c'è questo tipo di servizio? Sì, è per loro che non va in Siena, poi che interesse a Siena, onestamente. Da Siena dovrebbero venire a Rigutino o anche nell'altra ipotesi. Per andare verso il sud, sì, per andare verso a Firenze. Mi sembra una cosa, un progetto così un po'. Va bene. Bene, ci vediamo domani. Vai cari Campolico, ciao.